Buongiorno, bentrovati al TG2000 di Mezzogiorno, i titoli di questa edizione. La chiesa di Vigevano in festa, beatificato Teresio Olivelli, il giovane martire massacrato nei lager nazisti, il cardinale prefetto della congregazione dei Santi nell'Omelia dice, un patriota entusiasta della fede che ci insegna a non ripetere mai più l'esperienza diabolica dell'odio i cui segni si colgono anche oggi nel presente come melma malefica. Nuovo stop ai direttori stranieri nei musei italiani, il Consiglio di Stato frena la riforma a Franceschini e chiede che i direttori dei Poli Culturali siano esclusivamente cittadini italiani, ma i dati dei musei guidati dagli stranieri mostrano invece un successo di pubblico finora mai visto. E' corsa senza fini al nucleare, il Pentagono prepara altre bombe atomiche tattiche contro la Russia, eppure Mosca ordina nuove testate Donald Trump allo scontro totale con l'FBI, rivela un rapporto segreto che mette nel mirino i vertici del Dipartimento di Giustizia, ostili al nuovo presidente nello scenario del cosiddetto Russia Gate. E dunque lo dicevamo nei titoli, è beato Teresio Olivelli, eroe mite contro la resistenza con una solenne celebrazione che abbiamo seguito fino a poco fa in diretta, presieduta dal prefetto per le cause dei Santi, il Cardinale Angelo Amato, nel palasport di Vigevano in provincia di Pavia, Teresio muore a 29 anni dopo le torture subite in un lager nazista. E allora per fare il punto su questa mattinata intensa ci colleghiamo con Vigevano, in diretta lo vedete l'inviato Luciano Piscaglia. Luciano buongiorno, raccontaci tutto. Buongiorno, buongiorno da Vigevano, dove è terminata da pochi minuti la cerimonia di beatificazione di Teresio Olivelli, una cerimonia che è stata presieduta dal prefetto della congregazione per la cause dei Santi, il Cardinale Angelo Amato, che ha sottolineato l'attualità della figura di Olivelli accostando il nuovo beato e martire ai 215 milioni di cristiani ancora oggi perseguitati nel mondo. Presenti circa 4.000 persone, più di 30 i pullman arrivati fin dal primissimo mattino, presenti anche numerosi gruppi di alpini e di ex partigiani e accanto ai familiari anche i dirigenti di azione cattolica e fuci. Teresio Olivelli, infatti, beato per la santità di vita e il martirio subito in un campo di concentramento nazista, fu membro della fuci e alpino della brigata tridentina durante la seconda guerra mondiale. Dal 1943 partecipò alla resistenza cattolica contro il nazifascismo ed è sua la famosa preghiera del partigiano intitolata Ribelli per amore. Ai giovani partigiani cattolici insegnò ad essere liberi dall'odio, dalla vendetta e dal rancore. Arrestato nel 1944 a Milano e deportato, morì nel campo di Ersabruck, ucciso a calci, mentre tentava di difendere con il proprio corpo un giovane sottoposto ad un brutale pestaggio. Un ultimo gesto di carità e di testimonianza, ma non l'unico perché Teresio Olivelli si spese sempre a favore dei compagni di prigionia, curandoli, confortandoli e offrendo anche loro il poco cibo che aveva. Come testimonia Venanzio Gibillini, che abbiamo incontrato questa mattina prima della celebrazione, lui conobbe Teresio Olivelli nel campo di concentramento di Fossenburg. Ascoltiamo le sue parole e al termine la linea tornerà allo studio. Ho un ricordo di Teresio Olivelli, un ricordo stupendo, perché Teresio Olivelli per noi sopravvissuti al lager era già beatificato dopo la guerra. L'ultima violenza l'hanno ucciso a pedate a Ersabruck, il sottocampo di Fossenburg. Però a Fossenburg per tutti li volevano bene, per tutti li rispettavano, perché lui era dolmece, era interprete, parlava il tedesco, parlando il tedesco poteva sopravvivere, invece ha scelto, lui cercava di sopravvivere, lui cercava di aiutare gli altri, basta. Vi do adesso un'ultima ora, in arrivo occhi puntati da Macerata, città in questi giorni, già al centro delle cronache nere, le immagini che vedete sono di questi minuti, una serie di sparatorie sono in corso in città, i colpi a quanto si è appreso sono partiti da un'auto, un'Alfa Romeo, 147 nera, 4 al momento i feriti, tutti passanti, segnalati in diversi punti della città, uno in corso Cairoli, uno vicino alla stazione, spari anche in via dei Velini, in via Spalato. Anche noi rilanciamo l'appello del sindaco, lanciato poco fa sui social media, per chi ci ascolta da Macerata, restate chiusi in casa, scrive il sindaco, nel corso del Tg vi diamo i relativi aggiornamenti. Occupiamoci ora del nuovo stop ai direttori stranieri nei nostri musei, arrivato dal Consiglio di Stato, secondo cui devono essere per forza cittadini italiani, rinviata così la riforma Franceschini, che promuove invece bandi internazionali per i vertici dei poli museali nel nostro paese, nonostante i risultati siano invece lusinghieri e siano stati già ottenuti. Seguiamo Clara Iatosti. Arrivano da Germania, Austria, Francia, Regno Unito, da Brera a Pestum, da Capodimonte a Mantua, stanno risollevando le sorti dei nostri musei statali. Sono i sette superdirettori stranieri che dall'agosto 2015, con altri 17 pari grado italiani, guidano con grande successo le pinacoteche, i musei e le gallerie statali più importanti del bel paese. Hanno vinto una selezione internazionale, come accade in ogni altra parte del mondo, come Paola Antonelli, Almoma di New York o Francesco Manacorda a Mosca dopo aver diretto la Tate di Liverpool. Ma la nomina dei sette professionisti è stata subito contestata, in mancanza di una certificata italianità. E ieri l'innesimo rinvio di un ricorso da parte del Consiglio di Stato. Sono stati 13 ricorsi al TAR, 6 decisioni del Consiglio di Stato, quest'ultima decisione rimette in discussione quello che era già stato deciso. Quindi riapre il tema della possibilità di nominare direttori stranieri a guidare i musei italiani, quando italiani dirigono i più grandi musei del mondo. Purtroppo confido nella scelta finale della magistratura, ma veramente non diamo una bella immagine. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, più visitatori, ma soprattutto maggiore interesse degli stranieri. Ma questo non basta a chi propugna l'autarchia. E pensare che, per esempio, il filosofo francese Belenget, folgorato da una visita a Capodimonte, è tornato alla Sorbona per studiare storia dell'arte e poter così diventare direttore del museo del suo cuore. Forse ha ragione James Bradburn, responsabile inglese della Pinacoteca di Brera. E' assurdo, dice, impedire ai musei italiani di essere guidati dai migliori piloti. Anche le Ferrari non sono guidate da italiani. Ora all'estero col Pentagono che rilancia il nucleare. I vertici della difesa statunitense rivelano lo sviluppo di testate atomiche come deterrenza verso la Russia. In risposta Mosca prepara un ordigno da 100 megatoni. In questo clima il presidente Trump diffonde una nota segreta sul Russia Gate. Va allo scontro totale con l'FBI. Su tutto seguiamo Federico Plotti. Un rapporto artefatto con l'unico scopo di danneggiare il team di Trump durante la corsa alla Casa Bianca. Senza quel report, sostengono i repubblicani, nessuno avrebbe ordinato l'intercettazione di Page. E il caso Russia Gate, quello dei presunti rapporti del presidente americano e di alcuni suoi collaboratori con la Russia e delle ingerenze di Mosca nell'ultima campagna elettorale per le presidenziali, non sarebbe mai scoppiato. In aperta sfida contro i vertici dell'FBI e del ministero della giustizia americano, Donald Trump ha deciso di rendere pubblico un documento finora segreto in cui, nero su bianco, vengono formulate precise accuse nei confronti del bureau che avrebbe, così, irregolarmente istruito e fomentato lo scandalo Russia Gate per screditare l'attuale amministrazione repubblicana e favorire in qualche modo i democratici. Il documento, desegretato per ragioni di interesse pubblico, denuncia abusi di potere dell'FBI nell'attività di sorveglianza in particolare nei confronti di Carter Page, ex consigliere di Donald Trump, che in precedenza aveva svolto attività finanziarie a Mosca e dalle cui intercettazioni è partito lo scandalo. Nell'ottobre del 2016 il Federal Bureau of Investigation avrebbe ottenuto il mandato per intercettare Page ingannando l'autorità giudiziaria utilizzando un report redatto su Commissione dei Democratici e di Hillary Clinton dalla spia britannica Christopher Steele. Un'inchiesta dunque nata, sempre secondo il Partito Repubblicano, da un atto illegale. Intanto dal Pentagono arriva l'annuncio che gli Stati Uniti intensificheranno il loro programma di sviluppo di nuove armi nucleari leggere e anche in questo caso c'entra in qualche modo la Russia, che sempre secondo il Dipartimento della Difesa starebbe sviluppando un'arma atomica molto potente della cui esistenza a Washington si parla già da almeno due anni. Restiamo all'estero ma ci spostiamo in Congo dove un altro prete cattolico è stato sequestrato questa mattina a Kinshasa a requisire il sacerdote, anche in questo caso è stata la polizia trasferendoli in una destinazione sconosciuta. Si tratta di padre Sebastian Liebo, parroco della comunità di San Roberto, alla periferia della capitale. A raccontare alcuni particolari è stata una suora della parrocchia, riferendo che padre Sebastian aveva appena finito di celebrare stamattina la messa quando è stato rapito. Durante la messa, tra l'altro, un uomo, ha riferito sempre la suora, ha filmato il prete col cellulare. Poi a fine messa sono spuntati fuori gli agenti della polizia. Sale così a una decina fra sacerdoti e suore il numero di religiosi arbitrariamente arrestati con l'accusa infondata di rappresentare una minaccia per la pace. L'episodio mette in luce le relazioni ormai particolarmente tese fra la chiesa cattolica congolese e il governo locale. Ci riporta in Italia la cronaca con l'udienza di convalida questa mattina del fermo del nigeriano accusato del brutale omicidio di Pamela a Macerata. Fatta a pezzi dopo essere stata uccisa, l'autopsia non è riuscita a stabilire le cause del decesso perché sul cadavere sono stati cosparsi litri di candeggina. Seguiamo Barbara Masulli. Quest'uomo innocento segale è l'ultima persona secondo gli inquirenti ad aver visto Pamela Mastropietro cui corpo è stato ritrovato mercoledì scorso fatto a pezzi in due diverse valigie nelle campagne di Pollenza vicino a Macerata. È finito in manette perché nel suo appartamento sono stati trovati vestiti della vittima sporchi di sangue e coltelli e per una serie di testimonianze e immagini di telecamere di sorveglianza che sembrerebbero inchiodarlo. È accusato di omicidio, occultamento e bilipendio di cadavere anche se lui nega e tira in ballo altre persone e per questo le indagini proseguono con molta cautela. I carabinieri non escludono alcune ipotesi. I risultati dell'autopsia non evidenziano tracce di violenza anche se per avere un quadro completo ad esempio l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte di Pamela bisogna aspettare gli esami tossicologici. Dietro i dettagli macabri di questo omicidio c'è la storia di una ragazza con tante problematiche che è una ragazza sicuramente infelice che stava cercando di guarire dalla sua dipendenza dalla droga grazie all'aiuto della comunità PARS. E siccome qui c'è guerra, sempre, c'è anche pace, però c'è guerra e pace. Non c'è la narcosi, non c'è il tentativo di rendere artificiale la vita. Noi siamo nella realtà e la realtà è dura, molto dura, perché la gente che arriva qui a causa dell'uso di sostanze di ogni tipo è devastata. Martedì mattina Pamela si è allontanata dalla comunità, era maggiorenne e poteva farlo nonostante i tentativi degli operatori di trattenerla o quantomeno di accompagnarla alla stazione. L'attenzione è tanta, i ragazzi ne soffrono e gli uomini siano capaci di queste mostruosità dice che l'uomo ha perduto il significato dell'essere uomo. Restiamo nel maceratese, lo dicevamo nel inizio del Tg, per un aggiornamento proprio sulle vicende legate alla indagine di Pamela, perché spari ci sono stati in Via dei Velini, Via Spalato e altre zone della città, tutte toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro. Occhi puntati dunque sulla città, una serie di sparatorie. I colpi sarebbero partiti da un uomo solo, stando a quanto riferisce il sindaco alla guida di un Alfa Romeo 147 nera, il sindaco romano Carancini invita tutti a restare chiusi in casa o negli uffici, nei luoghi di lavoro, sospese le corse degli autobus, fermi gli scuolabus e secondo fonti di stampa da verificare sarebbero tutte straniere le quattro vittime di quest'uomo armato che gira per la città di Macerata. Cambiamo registro, occupiamoci di bollette telefoniche dopo l'intervento del garante per la concorrenza sulla vicenda dei costi fatturati a 28 giorni. Adesso i grandi operatori della telefonia mobile tornano alle bollette su base mensile aumentando però ulteriormente le tariffe per non perdere gli introiti. Seguiamo Fabio Bolzetta. Una nuova sanzione contro le bollette a 28 giorni. Continua il braccio di ferro tra il garante per le comunicazioni e le società telefoniche che calcolano la fatturazione a 28 giorni. Questo perché addebitando i consumi sulle quattro settimane e non sul mese solare si ricava un aumento dei costi a carico dell'utente e così sulla base di un anno calcolandoli sui 28 giorni significa una fatturazione extra per i giorni restanti e come in pratica se invece di 12 bollette ne arrivassero 13. Come anticipato oggi dal quotidiano La Repubblica la seconda multa che potrebbe essere combinata già nei prossimi giorni avrebbe anche l'obiettivo di tornare ad ordinare alle società telefoniche e anche un risarcimento ai clienti. Dopo la prima sanzione da 1.160.000 euro il ripristino alle classiche bollette mensili era previsto già al 21 dicembre ma nessun cambiamento allora è stato eseguito procedendo le società ad indicare come data possibile solo quella dopo il 4 aprile 2018 seguendo dunque l'ultima legge di bilancio. La partita continua ma chi continua ad essere colpito dalla differenza di fatturazione ovvero da costi superiori nel calcolo annuale delle utenze sono sempre e ancora una volta i consumatori. Allora chiudiamo con un po' di leggerezza perché anche Gina Lollobrigi dà la sua stella sulla strada più celebre di Hollywood cerimonia la presenza della quasi 91enne diva del cinema italiana un momento che consacra definitivamente la sua ricchissima carriera. Lo vediamo con Silvio Vitelli. È una Gina Lollobrigida in credula quella che alla soglia dei 91 anni con oltre 60 film all'attivo è volata ad Hollywood per inaugurare la sua stella sulla celebre Hall of Fame. È la numero 2628 e si aggiunge a quelle di altri italiani che hanno reso il cinema nostrano celebre nel mondo. Sofia Loren, Anna Magnani, Rodolfo Valentino, Bernardo Bertolucci ed Ennio Morricone. Una delle attrici simbolo del dopoguerra italiano l'esordio nel 46, sette anni dopo il successo nei panni della bersagliera in Pane, Amore e Fantasia. La sua popolarità arriva nel 54 oltreoceano con il tesoro dell'Africa che l'anno successivo le regala la copertina del Time proprio mentre in Italia spopola con la sua interpretazione di Lina Cavalieri la donna più bella del mondo. E anche il tuo matrimonio a Pietroburgo è un equiuco. E non mi aspettavo questo amore che dura da secoli, da tanti anni. Essere amata dal pubblico di tutto il mondo è veramente una cosa che mi emoziona. E' vero che ha fatto lei l'abito che indossa? Le hanno chiesto. La risposta di Gina è fulminea. Certo che ci vuole. Io disegno. Attrice, cantante, scultrice, fotografa e ora anche stilista. E' tutto, prossima edizione del TG2000 questa sera alle 18.30. Grazie per averci seguiti. Buon fine settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.